Ciao, sono David Forzano, ho 20 anni, faccio il centrocampista, sono nato e cresciuto a Lugano e nel Lugano e anche per questo motivo indossare questa maglia è, oltre che un onore, un motivo d'orgoglio quindi speriamo di portare questa società nei livelli che merita e per far questo abbiamo bisogno anche di voi quindi vi aspetto tutti allo stadio, ciao!